Andiamo un po' a curiosare cosa queste donne hanno preparato. Pizze, panini. Ecco qua. Allora, chi intervistiamo di questa domanda? Buongiorno. Buongiorno. Anche gli alimenti prima di tutto per l'organizzazione, per l'infinito di un profuso e per quello che voi avete preparato. Allora, tutta la gente vi ringrazia. O che cosa dita la gente? Eh, noi siamo contenti che sembra che sta dicendo tutto bene. Ma quando vediamo le vendite, come vanno i giochi, poi vediamo. Sicuramente andrà bene. Vediamo. Grazie.